ciao ragazzi bentornati in un nuovissimissimissimo video siamo su slug terra a quattro lettera su campagna ora andiamo su arena 2 mettiamo trixi come avversario che d'altrettanto non è tanto forte però pure un zottano forte quindi dai c'è posta come vedete io degli slug in particolare che sono questi qui sto lanciando tipo degli slug bianchi piccolini che non si trasformano come vedete il bomba slug contro slug spettro il mio vince sempre perché io premo le volte e il suo perde sempre io la prendo non lo vedo perché devo sbattere è ovvio no ma c'è non può non sbattere ma non ho controllo sto slug raga aia a quel paese all'estero al paese dove al paese di balocchi grande battuta al paese di balocchi e slug spettro contro bomba ovviamente vince lo spettro perché lo spettro è mio oh no via oh ciao slug scossa ma non ci credo non ci posso credere che brutta manovrabilità che c'è questo slug ma no che schifo si deve vedere da solo c'è una manovrabilità di schifo c'è una manovrabilità di schifo oh no ho preso oh no mi sono dovuto far colpire per poi a fare una cosa non ci sono riuscito per distrutti cheee perchè boom 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 ok via voglio male ok juventinis juventinis bu 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 mi dispiace un amico sempre le sostanze di tocco che bello bu ma teccate sto fu ancora? no? chi più è successo vabbè noi ci vediamo dopo perché se no questa qua mi uccide e non è valido ora ragazzi sto contro glasses quindi credo che c'è bisogno di una bomba flag in un po' di quello che aveva di prima c'era quello d'attacco che stava qui questo di controllo e questo di difesa non lo ricordo molto bene no di pilastri bu 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 oh un po di fuoco ora però vado a tirare di che sennò sono critico no 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 perché perché no non ci provare no no sei l'ambio infinito che carne che pede proviamo il bombaslag non vai da nessuna parte dove puoi andare tu con quella sasuccia no vai dai dai busta di dammi di curare doc grande doc no bravo come so parlare italiano ragazzi commenti commenti per il mio italiano perfetto commenti per il mio italiano perfetto ragazzi poi non so se volete che vi porti minecraft originale che costa 7 euro dite me i miei commenti che io ve lo porterò porterò tutti i giochi che voi tutto quanto basta il mio da pagamento perchè se non pagate per i miei giochi io li porto proprio perchè i soldi non ce li ho capito no no stiamo combattendo vai doc curami doc scelgo te usa cura non vai non 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 ma ci suoi doc doc usa cura doc vai usa cura ok 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 bravo gentilmente non andare sul pilastro grazie no vai bombaslag contro bombaslag che è il mio logica è il mio logica è il mio no muori aia ovviamente io sono scemo muori dai che sto muorendo forte forte muorendo 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 ok c'è 3 di vita io 1 2 3 non lo so vabbè 3 4 di vicenza grazie scontare non mi interessa però non lo so scendete boom slug spettro no è vinto la juve non è gradita no che schifo non sapete cosa ha fatto raga ma non c'è uno slug se non lo prendevo morivo raga 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 la pressione raga la pressione slug cura boom no ne no pago un mincento ma chi se ne frega io devo vincere per voi quindi spenderò tutto ma moro ha detto già tutto meno non mi arriva ci ho messo cent'anni a fare un poco di battaglie ragazzi quindi che ne dice se chiudiamo qua vabbè faccio una piccola missioncina no non è vero ragazzi io mi scoccio non ho tempo quindi devo saldare un sanno vabbè aspiti a casa e ci vediamo alla prossima ciao